buonasera amici amiche di nuova news 24 l'isola dei famosi è terminata e il vincitore è marco mazzoni quindi nessuna sorpresa questa sera una puntata che si è svolta davvero in maniera impeccabile luca vetrone sicuramente arrivato secondo ma non solo ha battuto tutti i suoi compagni nonché ovviamente avversari al televoto portandosi però proprio alla votazione finale con il più forte marco mazzoni lo avevamo detto nei sondaggi era sempre il più forte aveva comunque tantissimo da dare a quest'isola non lo sapeva ringraziato tutti e soprattutto nel finale un ringraziamento a chico forti per chi non conosce la storia ovviamente chico forti è un suo grande amico e si trova in carcere negli stati uniti per un qualcosa che non ha commesso amici di nuova news 24 sembrerebbe proprio che l'isola dei famosi questa sera si è conclusa nella maniera più lineare possibile il di blasi ha condotto in maniera impeccabile facendo tantissimi saluti poi nel finale a tutti coloro che hanno creduto in quest'isola soprattutto alvin un grandissimo inviato che lavora tantissimo per questo programma e si vede un una persona sicuramente che è stata ringraziata anche da lo cicero e da altri concorrenti per la sua generosità la sua schiettezza e la sua bravura professionale ma amici di nuova news 24 il trionfatore dell'isola dei famosi 2023 e marco mazzoli lui ha iniziato insieme a paolo ma poi ha dovuto purtroppo abbandonare la barca in corsa per problemi di salute e proprio a paolo ha dedicato questa vittoria lui che non sperava di vincere era andato sull'isola proprio tirato da paolo dal suo grande amico conduttore radiofonico dello zoo 105 insieme a lui e proprio questa amicizia lo ha portato poi a vincere il programma perché due si sono divisi lo ricordiamo ma proprio paolo ha dovuto abbandonare nel corso del delle giorni perché ha avuto dei problemi di saluto ovviamente in cui si è dovuto purtroppo a rendere amici di nuova news 24 vince quindi questa edizione 2023 dell'isola dei famosi marco mazzoli lui che comunque era già dato vincitore a tutti i bookmakers marco mazzoli trionfa amici di nuova news 24 indici cosa ne pensate voi della vittoria di marco mazzoli ricordiamo il podio secondo è arrivato proprio luca vetrone e terza classificata pamela camassa che all'inizio era data come favorita diteci cosa ne pensate se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti